Vaccinazioni senza appuntamento per over 60, operatori scolastici e personale sanitario e date disponibili entro due giorni per chiunque prenoti sul portale regionale fino al 12 settembre. Con l'entrata in vigore a partire da oggi delle nuove regole sull'utilizzo del Green Pass, ATS Insubria fa il punto sulla campagna vaccinale e sulle modalità per accedere all'iniezione per chi ancora non l'avesse fatto. Ad oggi, in base ai dati del portale regionale, aggiornato in tempo reale, in provincia di Como l'85,4% della popolazione ha ricevuto almeno la prima dose. La campagna vaccinale prosegue. È necessario effettuare la prenotazione sul portale regionale e fino al 12 settembre è garantita la disponibilità di una data libera in 24-48 ore al massimo. Possono invece recarsi direttamente presso gli hub vaccinali senza appuntamento, gli over 60 e gli operatori sanitari e scolastici. Dovranno portare la tessera sanitaria, il consenso informato, la scheda anamnestica e il modulo di autocertificazione per la categoria del personale scolastico e sanitario. La documentazione è disponibile sul sito di ATS Insubria. Per gli over 60 è possibile anche vaccinarsi nelle farmacie aderenti con il monodose Janssen. Il Green Pass può essere ottenuto anche con un tampone negativo. Nelle farmacie che hanno aderito, una trentina in provincia di Cuomo, è possibile eseguire il test rapido valido per l'emissione del certificato a prezzo calmirato. L'elenco completo è disponibile sul sito del governo. Il costo del tampone in queste farmacie è di 15 euro, 8 per i ragazzi da 12 a 18 anni. Gli appuntamenti sono gestiti direttamente da ciascuna farmacia. Gli appuntamenti sono gestiti direttamente da ciascuna farmacia.